Ciao, sono Luca Manelli e in questo video voglio spiegarti come poter andare a realizzare una scala come quella che stai vedendo, che può essere considerata una scala di accesso a un edificio, una scala comunque abbastanza importante, andando ad utilizzare lo strumento scala con una particolare costruzione, ma anticipandoti anche che questo tipo di modellazione di una scala di questo tipo, la si può andare a realizzare anche utilizzando un altro metodo che però andrò a mostrarti con un altro video. Ma ora vediamo come poter realizzare questa tipologia di scala utilizzando solo ed esclusivamente lo strumento scala. Per realizzare la modellazione utilizzo un file completamente vuoto che ho creato utilizzando il template standard di Archicad. Prima di iniziare vado a modificare l'unità di lavoro, da metri la imposto a centimetri e per quanto riguarda l'ambientazione vado come prima cosa a disegnare un muro. All'interno delle impostazioni dello strumento muro vado a selezionare un muro a struttura base. Per quanto riguarda l'altezza vado ad aggiungere nella parte inferiore 60 centimetri, per cui inserisco meno 60 centimetri. In questo modo avrò un muro con un'altezza totale di 360 centimetri. Confermo con ok e vado a disegnare il muro all'interno della finestra di lavoro di Archicad con una lunghezza pari a circa 12 metri. Non ha importanza la lunghezza del muro, è per darti un'indicazione di massima. Una volta fatto questo vado all'interno dello strumento porta, apro la finestra impostazioni e vado a selezionare la porta due ante asimmetrica. per quanto riguarda la sua forma vado a inserire per un'anta una larghezza pari a 90 centimetri e per quanto riguarda il tipo di maniglia vado a inserire un pomo in modo tale da avere appunto una forma di questo tipo e che vada un po' a richiamare la porta di un portone di un edificio. Poi nella realtà magari non sarà in legno, non avrà queste finiture, non ha importanza, era solamente per avere un punto di riferimento per poter andare a realizzare la scala che ti ho fatto vedere. Ora sono pronto a iniziare il disegno della scala. Per realizzare questa tipologia di scala nella realtà lo possiamo fare almeno in due modi. Il primo modo che adesso ti andrò a mostrare è quello di utilizzare lo strumento scala. Nella realtà non sarà una sola scala ma saranno più scale perché la scala può essere solo a una rampa, invece in questo caso ne avremo più di una. Però può essere utile saper realizzare questa tipologia di scala utilizzando proprio lo strumento scala anche un po' per conoscere le varie possibilità che questo strumento ci mette a disposizione. Per aiutarmi vado a fare una piccola costruzione bidimensionale. Vado ad utilizzare lo strumento arco cerchio, vado a individuare il centro della porta e vado a disegnare un cerchio con il raggio di 200 centimetri per cui vado a digitare 200 e confermo. Una volta fatta questa operazione vado a selezionare lo strumento linea e vado a tracciare il diametro. Lo vado a selezionare e vado a moltiplicare per cui vado a richiamare il comando moltiplica. Nel mio caso sarà sicuramente una rotazione in distribuzione e vado a attivare il meno 1. Per quanto riguarda il numero di copie vado a inserire un numero pari a 3 e vado ad attivare il checkbox ruota sul percorso. Confermo con ok, vado a posizionare il cursore al centro del cerchio, vado a prendere uno dei due vertici del diametro, faccio un clic e vado a muovere il cursore in modo tale da effettuare una rotazione di questo tipo. Fatto questo ora non devo far altro che andare a selezionare tutte le linee, vado a richiamare il comando ruota e per quanto riguarda la mia rotazione vado a effettuare una rotazione di 22,50 gradi. In questo modo ho posizionato la prima rampa perfettamente perpendicolare alla porta e poi avrò le altre rampe che dovrò andare a definire. Se vuoi avere dei riferimenti più precisi di come dovrà essere fatta la scala puoi tranquillamente andare a disegnarti le linee che identificano appunto il primo gredino di partenza delle tue rampe e una volta che hai fatto questo tipo di operazione puoi prendere il cerchio e andarlo a cancellare, mentre gli altri segmenti ti consiglio di mantenerli perché ci serviranno come punti di riferimento per poter adattare la forma della scala. Una volta fatte queste modifiche possiamo procedere con la creazione della prima rampa. Vado ad attivare lo strumento scala e apro la finestra impostazioni. Per quanto riguarda il collegamento superiore imposto non collegato, in questo modo avrò la possibilità di definire l'altezza della mia rampa. Nella realtà dovrà essere alta 60 centimetri perché la posso già andare a impostare. Archicad automaticamente mi mette 4 alzate da 15 centimetri l'una che mi vanno più che bene, mentre per quanto riguarda la quota di imposta vado ad inserire un valore pari a meno 60 centimetri. Fatto questo vado a selezionare la finitura e vado a visualizzare solo la finitura della pedata. Se vuoi magari andare a modificare il materiale della pedata puoi andare all'interno dei parametri e andare a selezionare magari una pietra, nel mio caso pietra strutturale. Una volta date queste prime impostazioni confermo con ok e sono pronto ora a disegnare la prima rampa. Per quanto riguarda questa prima rampa posso andare a inserire la linea base al centro, partirò da questo punto, faccio un clic e vado a inserire la rampa che dovrà avere uno sviluppo di 120 centimetri. Nella realtà la rampa non sbarcherà qua ma sbarcherà a livello di questa linea. Adesso la posso andare a selezionare e non devo fare altro che muoverla in questo punto in modo tale da andarla a posizionare per fare in modo che la quota di sbarco sia su questa linea. Per quanto riguarda la larghezza di questa rampa vado a misurare questa distanza che pare a 153,07 per cui seleziono la scala e inserisco il valore 153,07. Avendo inserito la linea di riferimento al centro la scala crescerà verso sinistra e verso destra in maniera uniforme. Ora vado a selezionare la rampa e vado a ruotarne una copia. Prendo come centro di rotazione il centro del cerco che poi abbiamo cancellato, vado a definire questa direzione e vado a ruotare una rampa verso destra di 90 gradi. Vado a modificare la posizione della linea di riferimento e ora vado a misurare questa distanza che è pari a 76,54. Vado a inserire il valore all'interno di questo box. In questo modo possiamo vedere che abbiamo definito quest'altra rampa. Ora per poter definire la forma delle rampe vado ad utilizzare le linee guida in modo tale da creare un prolungamento virtuale delle linee che abbiamo moltiplicato in precedenza. Vado a selezionare questa prima rampa. La selezione per poter modificare la forma della rampa non deve essere di questo tipo ma deve essere andando a toccare uno dei due lati. Ma prima di fare questa operazione dobbiamo modificare anche la struttura, in questo caso delle due rampe. Per cui le vado a selezionare entrambi e apro la finestra impostazioni. Vado a selezionare la voce struttura, nello specifico la struttura rampante. Per quanto riguarda la tipologia di struttura vado a selezionare quella piena. In questo modo avremo una scala appunto piena e vado a confermare con ok. Visualizziamo in 3d quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Non abbiamo ancora visto nulla nel 3d però in questo caso possiamo vedere che la nostra rampa parte dai meno 60 centimetri della base del muro per arrivare a quota 0. Stessa identica cosa per la seconda rampa che abbiamo creato. Se vogliamo poi migliorare un po' l'aspetto della scala possiamo magari andare a selezionare le due rampe inserite e per quanto riguarda il materiale della struttura possiamo magari procedere con una sovrascrittura andando a definire magari un'intonacatura del nostro materiale. Nel mio caso vado a selezionare stucco bianco grezzo e confermo con ok. Fatta questa operazione possiamo ritornare in pianta e adesso andare a modificare la forma della prima rampa. Sono andato a selezionarla toccando uno dei due lati. Ora vado a fare clic su questo vertice e utilizzando il comando della pet palette sposta nodo vado a muovere il nodo fino a che non lo faccio intersecare con la linea guida. Faccio la stessa identica cosa anche sul lato opposto. In questo modo possiamo vedere che abbiamo generato per quanto riguarda la prima rampa questa forma a trapezio. Vado poi a selezionare quest'altra rampa e anche qui faccio la stessa operazione. Vado ad allargare la struttura in questo modo. Adesso non dobbiamo far altro che selezionare questa rampa e andare a specchiare una copia usando come asse di specchiatura il centro del cerchio e ora selezionare questa rampa e andare a utilizzare il comando ruota multiple copie. Vado a usare come al solito questo centro per il centro di rotazione. Vado a definire la prima rampa e poi vado a definire la seconda rampa. esc per uscire dal comando. Visualizziamo in 3d quello che abbiamo fatto. Possiamo vedere che abbiamo definito le rampe per la nostra scala. Adesso torno nuovamente in pianta. Vado a utilizzare lo strumento solaio. Come impostazioni vado a definire una struttura base. Per quanto riguarda la parte superiore. Nella realtà dovremmo magari fare un solaio che va a definire lo spessore di un ipotetico rivestimento. Nel mio caso non faccio altro che andare a selezionare un materiale di superficie per quanto riguarda la parte superiore e vado a disegnare il solaio. Nella realtà avremmo potuto tranquillamente andare anche a definire lo spessore pari a 60 centimetri per il nostro solaio in modo tale da avere appunto un riempimento che ci permetta di avere anche una struttura al di sotto della parte orizzontale. Mi sposto in pianta perché come puoi vedere abbiamo inserito 5 rampe e per 5 le rampe abbiamo i riferimenti della linea di passo con il numero di gradini eccetera eccetera. Nel caso in cui vogliamo dare un aspetto grafico bidimensionale leggermente diverso per cui magari vogliamo mantenere le linee di passo solamente sulla rampa al centro possiamo andare a forzare un po' il simbolo 2d delle altre rampe per cui inizio ad andare a selezionare. Apro la finestra impostazioni e vado a selezionare visualizzazione impianta. Per quanto riguarda i componenti del simbolo impianta puoi vedere che sono impostate per opzioni vista modello. Questa impostazione è molto interessante perché ci permette di gestire il simbolo bidimensionale delle scale utilizzando le opzioni vista modello. Nel nostro caso invece per le quattro rampe selezionate questo non è la soluzione migliore perché quelle altre quattro rampe non devono essere gestite con le opzioni vista modello per cui disattivo checkbox e ora ho la possibilità di disattivare magari la numerazione la linea di passo e anche la descrizione. Se vado a confermare con ok possiamo vedere che per quanto riguarda la rampa al centro abbiamo mantenuto il sistema descrittivo che ci permette di avere la linea di passo, il numero dei gradini, una descrizione della scala e in modo tale da poter appunto avere questi riferimenti. Per le altre quattro rampe invece abbiamo fatto in modo che Archicad non vada a prendere in considerazione queste informazioni. Ora per migliorare il simbolo possiamo andare a rimuovere tutte le linee guida e andare a selezionare le linee di costruzione che abbiamo inserito in modo tale da andarle a cancellare. Così abbiamo creato quella scala che ti ho fatto vedere all'inizio con un primo metodo che è quello appunto di utilizzare lo strumento scala. Come ti dicevo c'è la possibilità di ottenere lo stesso risultato però non andando ad utilizzare lo strumento scala ma andando ad utilizzare un altro strumento. Ma come ti ho promesso sarà oggetto di un altro video.